Ciao a tutti come vi siete, oggi siamo in questo nuovo FNAF News incredibile perché è uscito il trailer del DLC in Security Breach ovvero ruine e martellano si sente martellare purtroppo io l'ho già visto perché ieri quando è uscito tipo a le 11 di notte l'ho guardato con Gabri Impossible, Dark Moof e Falco 200 ho registrato l'analisi che abbiamo fatto dopo però per sbaglio non ho registrato la reaction quindi niente vi metto poi alla fine l'analisi che abbiamo fatto tutti insieme comunque adesso lo riguardo, magari vedo qualche cosa in più e comunque un minimo di reazione la faccio perché è veramente bello il film mi ha lasciato un po' scettico ma questo signori, questo è contenuto di qualità quindi iniziamo bellissimo bellissimo è bellissimo fatto proprio benissimo questo è Roxanne io Roxanne è incredibile ah ho visto una cosa che non avevo visto prima un'altra cosa ragazzi qual'era la traduzione di July? aspetta li schambio sempre giù nel July fermi tutti un attimo luglio luglio ragazzi a luglio avremo il DLC di Ruin faccio una breve analisi soprattutto delle cose nuove che ho visto e poi vi lascio a quella più più dense con tutti quanti vediamo che qui in tante giorno vediamo una cosa nuova per FNAF e vediamo che c'è una ragazza questa ragazza è probabilmente quella che abbiamo visto già nei tisori precedenti quindi quella bambina alcuni teorizzavano fosse Susie quindi la bambina che ha posseduto Chica la lord di FNAF è complicata anche se per anche secondo me non aveva senso quella teoria però comunque l'abbiamo la cosa strana è che non si vedono i codini quando invece lei ha i codini vediamo che il pizzaplex è devastato è totalmente distrutto e attenzione sentiamo la voce di Gregory che si riferisce a una certa e si riferisce a una certa persona chiamata Cassie Cassie è molto simile a Cassidy lo so che Cassidy in teoria dovrebbe essere morta più o molti anni prima e poi avrebbe dovuto possedere Golden Freddy molti anni prima però è la lord di FNAF quindi Gregory dice che è rimasto intrappolato nel pizzaplex o almeno quello che ne rimane non ha tempo per spiegare come è successo però chiede a Cassidy di salvarlo qui vediamo varie parti già del pizzaplex che abbiamo visto in passato alcuni corridoi il monte golf con dell'acqua molto bella dei corridoi intanto c'è un endos... non un endoscedro è un... come si chiamano? uno staff bot devastato poi chiede di nuovo... Gregory chiede di nuovo a Cassidy di salvarlo è così buio qua sotto qui vediamo la mano di Cassidy per la prima volta è Roxanne ora noi abbiamo visto l'endoscedro di Roxanne e come abbiamo utilizzato un po' dopo nelle analisi questo non può essere l'endoscedro di Roxanne io credo che qualcuno l'abbia modificato con tutti gli altri animatronic che si vedranno più avanti l'endoscedro è rimasto più o meno uguale o comunque c'è qualche piccolo cambiamento qua è tutto diverso quindi mi sa che è stato modificato anche la grandezza delle orecchie cioè ovviamente la faccia è quello che si vede di più però anche la grandezza delle orecchie è molto diversa gli endoscedri invece sono ripasti uguali cioè sono identici vediamo che Chica è un po' più distrutta rispetto a rispetto a security breach normale vi posso dire che è quella che se la passa meglio comunque vediamo che per le telecamere intanto c'è un nuovo design bellissimo ma per le telecamere dobbiamo usare non il fastwatch ma questo nuovo dispositivo e oh mio dio lo sto vedendo adesso questo nuovo dispositivo è il dispositivo di security breach tv signori è lo stesso e adesso su security breach tv è comparso il trailer probabilmente si porta al trailer a questo punto dato che lo vediamo anche da un'altra inquadratura questa qui è una valigetta come vedete è una valigetta che sta su un piedistallo quindi forse se la deve portare appresso possibile qui vediamo un sacco di nuovi dispositivi utilizzati in walkie talkie e sentiamo per la prima volta Cassi parlare e mi sono scordato di dirvi una cosa in questa scena dove si vede Chica vediamo l'immaginina di non è Gregory però in security breach la di Gregory accovacciato qui vediamo invece che c'è una protagonista che c'è una ragazza con le codine quindi si giochiamo nel ruolo giochiamo nei panni di quella ragazza del poster lo vedremo meglio però signori questo è Monty questo è Monty lo vedremo dopo meglio ma questo è Monty qui vediamo il Monty colpo totalmente distrutto ancora Chica ecco qui qua si vede meglio Monty ora cavolo cavolo vediamo tra l'altro lo dico anche nell'analisi che Monty ha un pezzo è oggettivamente diverso da tutto il resto che spicca rispetto al resto dell'endoschetto cioè questa parte di qua e considerando che che Cassi si sta trovando molto vicina a Monty secondo me una delle missioni sarà di recuperare questo pezzo per poi chissà fare che cosa infatti cerca infatti cerca di aprire la bocca per rivelare appunto questo pezzo per quanto sia distrutto l'endoscheletro è comunque lo stesso vediamo gli stessi occhi la stessa struttura quindi Roxanne è totalmente diversa per un motivo preciso e qui forse non lo sappiamo ma forse questo è un insieme di tutti gli animatronic o almeno di ciò che ne rimane fermi tutti fermi tutti non è vero non è vero per niente ragazzi se guardate bene i colori sono cioè magari sono un po' mutati dalla luce però guardando meglio i colori sono un giallo arancione e un rosso viola forse mutati dalla luce per questo ci sono queste varianti però questi sono i colori di Glamrock Freddy e nel resto del trailer Glamrock Freddy non lo vediamo quindi mi sa che quello è Glamrock Freddy questo questo è meraviglioso io sposo quest'uomo è bellissimo è stupendo è fantastico io lo amo mentre la fustina di Sun and Moon distrutti è qualcosa di meraviglioso siamo nel Dacre Cassie si sta mettendo una maschera che poi le permetterà di vedere cose 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 in modo diverso però come vedete la maschera ha delle orecchie sembra molto la maschera di Vanny in effetti mettendola vede vari glitch e qui vediamo Vanny o Glitchtrap da capire in questo stato glitchatissimo molto simile a Princess Quest da capire se Vanny o Glitchtrap perché da un punto di vista di lore ha più senso Glitchtrap però vedendolo sembra proprio Vanny o vedendola sembra proprio Vanny e adesso vi lascio all'analisi con Gabri Impossible Dark Muff e Falco 200 questo è Gregory questo è Gregory questo è il Montegator colpo rega tutto distrutto cioè quindi Gregory è rimasto quindi Gregory è riuscito a sopravvivere là dentro com'è possibile Cassie chiamo Cassie 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 no no aspetta l'unica cosa che mi faccio domanda cosa ci fa Mr. Cupcake se non c'entra con Mr. Cupcake no e c'è una parte dove del Pizza Plex dove c'è il Cupcake questo qua è Roxy Raceway hanno cambiato il modo di far vedere la mappa secondo me puoi essere sia la bambina e sia il Gregory non credo ci sarà un cambio con un cambio tipo questo questo qua ti metti quello e ti scambi tra la bambina e Gregory metteremo tutte e due ok Marika ma Fretti non c'è non si fa no forse c'era qualcosa forse c'era qualcosa questo è Monty Monty e Nightmare Foxy Monty e Nightmare Foxy aspettate fermi Monty ha qualcosa di azzurro nella bocca ma si 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 è vero che è evidente che è più particolare rispetto al resto si si è vero e tra l'altro c'è il dito che trapassa no c'è il dito che trapassa il dente no re che ci fondono cos'è chi è questo questo chi è questo chi è ma sicuri ma sicuri allora c'è il rosa di Chica ma scusa Monty non aveva niente come hanno fatto a fonderlo poi vabbè anche qua un errore cioè questo qua non era l'endoscheletro di Roxy si si questo è grave questo è molto grave perché se no quando gli toglievi gli occhi che l'era senza si vedrebbe questo ma in generale si vede comunque nel ma poi la mandibola corta così ma non è che è stata modificata apposta no secondo me no però se vedi anche le orecchie sono totalmente diverse mi sa che l'hanno cambiata a forza comunque io ho capito qua perché allora se noi non sappiamo tutti che hanno hanno una cosa che poi il loro colore si è capito che si cambia con la luce hanno una luce chiara che quando viene accesa diventa gialla cioè la plastica diventa gialla mentre quando si spegne diventa blu e qua si vede proprio che si è rotto infatti qua ci sono dei pannelli rotti dal sole cioè dalla luce del sole e dei pannelli rotti dalla luce della luce no oltre al fatto è una maschera è la maschera di bagni è lei è lei è quella di help wanted è quella di help wanted no non è vero no perché ci sono gli occhi elettronici è un insieme qua c'è qualcosa ci sono due occhi qua c'è qualcosa è glitch trap potrebbe potrebbe cioè avrebbe senso cioè con la maschera di vanni riesce a vedere glitch trap però è strano ma allora se questa maschera di help wanted come ha potuto la ripetirla bu non lo so guai non lo so a nemmuno adesso si sono uniti non è che sono uniti sono stati sempre la stessa persona però adesso con l'errore di tutto il sistema sono stati però gabri io non ne sono sicuro perché c'è moon che ha il ha un cappello e lo so però mi sembra strano perché moon ha un cappello non può comparire a casa un cappello no vabbè grazie ti spiego ti spiego secondo me cosa hanno fatto non si vede la trasformazione però secondo me intanto il colore di sun moon è bianco cioè l'animatronico è tutto bianco poi sono le luci all'interno che fanno e questo potrebbe anche essere nel senso le luci all'interno fanno diventare il braccio giallo o il braccio blu a differenza dell'ora del giorno per il vestito quindi i pantaloni secondo me sono dei pantaloni risvoltabili fai così e si risvoltano quindi è un sistema tipo elettronico che fa risvoltare automaticamente potrebbe essere invece il cappellino il cappellino potrebbe spuntare da dentro la testa anche se la testa è piatta se ti ricordi lo so è molto piatta la testa però allora c'è una cosa che secondo me io faccio una piccola provvisione ci sarà la voce di sun e moon messe insieme probabile molto probabile posso dire una mia teoria così una cosa allora se asso questo qui il regalo con quello di bone trap io penso che freddy non c'è perché freddy dice che lui ha bisogno di ricaricarsi pure mi sa che freddy che non c'è ce l'ha è con Greg ma è chiaramente scarico oh 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 freddy alla fine è uno dei boss finali questo trailer è uno dei migliori trailer che abbiamo mai visto di fnaf secondo me e sono molto fiducioso sono molto fiducioso sembra che dopo vari insulti no non insulti però dopo varie critiche la stirvola ha capito effettivamente cosa i fan di fnaf vogliono e ne sono molto felice perché in effetti vedendo security breach dopo un po' di tempo una volta finito l'hype di il rilascio non fa molta paura è oggettivo non fa molta paura rispetto agli altri almeno sembrava effettivamente un po' fuori da fnaf cioè c'erano i personaggi di fnaf però non era fnaf questo questo invece si questo mi sa proprio di fnaf certo gli animatronic distrutti sono molto esagerati mi ricordano un po' lo stile esagerato dei nightmare però comunque ci sta e sono felice che la stilvula abbia preso questa direzione scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate qualche teoria in più se vi è piaciuto o meno questo trailer ovviamente se ci saranno ulteriori notizie oppure se ci saranno aggiornamenti su security breach tv e a questo punto mi sa che usciranno a breve come alla fine è stato per security breach anche se con security breach security breach tv ha rivelato la data d'uscita noi abbiamo il mese adesso non abbiamo il giorno preciso e chissà forse faranno lo stesso però tralasciando ovviamente il mese che già sappiamo dicendo soltanto la data quindi detto ciò le fnaf news sono finite e non ci rivediamo ad un prossimo video eeeh ciao 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 ciao